Ciao ragazzi, benvenuti nella mod Vita da Gangster. In questo episodio faremo due cose, due semplici cose. La prima è modificare questa fantastica vigilante che ho preso da circa una settimana, quindi la portiamo dallo Santos Custom, la modifichiamo e poi vediamo un po' come va. Poi, numero 2, prenderemo possesso della casa di CJ, di Carl Johnson. Ragazzi, CJ è stato uno dei personaggi più importanti della saga di GTA, soprattutto di GTA San Andreas. E poi possiamo dire che lui è stato uno dei personaggi di spicco della Gang The Families, quindi tutto questo è grazie a lui. Quindi se noi siamo nella Gang The Families è grazie a CJ, perché lui si è sempre battuto per la famiglia, per la gang, quindi sempre fedele alla Gang The Families. E poi ovviamente è finita che i Ballas hanno conquistato Grove Street e infatti adesso loro abitano lì. Niente ragazzi, questa casa ovviamente si trova nel quartiere dei Ballas, quindi noi dopo aver modificato la vigilante andiamo lì, spariamo un po' così loro capiscono chi comanda e ci prendiamo quella casa. Ho già detto alla Mar e forse anche all'Ester di andare già lì, quindi dovrebbero stare lì la Mar, l'Ester, eccetera. Quindi vediamo un po' come va ragazzi, perché sicuramente ci sarà da sparare, perché è proprio lì. La casa di CJ è a Grove Street, quindi Grove Street uguale Ballas. Ballas uguale guerra, quindi oggi è guerra contro il Ballas. Perfetto dai, prendiamo la vigilante. Quanto è grossa sta macchina ragazzi. Aspettate, ma soprattutto avete visto il nuovo taglio di capelli di Franklin? Mamma mia ragazzi, guardate qui che top. Ovviamente bomber della Versace, felpa della Versace, pantaloni dovrebbero essere Gucci credo e scarpe ovviamente normali di GTA. Queste qui sono originali le scarpe. Ok dai, prendiamo la macchina. E andiamo da Los Santos Custom. Oddio, che motore. Oh sì, dai dai. Ovviamente sempre polizia qui. Dai andiamo da Los Santos Custom e vediamo un po' questa macchina come viene modificata, perché la faremo del colore della gang The Families, ovviamente. Ok, eccoci qui. Attenzione, non graffiate la macchina. Ok, un chilometro e venti. E siamo arrivati. Ovviamente il turbo già c'è. Però secondo me si potrebbe migliorare ancora di più. Oddio, fermo. Che qua ci schiantiamo. Perfetto, ok. Salve Los Santos. State attenti che qua posso anche sparare, come vedete. Quindi... Ah, e dagli un poco ragazzi. Non c'è mai una volta che io, o penso anche voi ragazzi, prendo un veicolo e si rompe. Si rompe dopo neanche due minuti. Si rompe per colpa di qualcuno. Dite la verità. Vi capita anche a voi ragazzi. Prendete la X80 Proto e c'è qualcuno che ve la graffia. È sempre così. Comunque, eccoci qui. Siamo arrivati. Tac, grande. Ah, aspettate, guardate cosa vi faccio vedere. Ah, no. Dovrebbe... Dovrebbe succedere qualcosa. Vediamo. Avete visto, avete visto, avete visto. Oddio, che figata. Poi ovviamente faremo anche un test. Ok, dai, Los Santos Custom. Ma apriti. Wow, un centro operativo mobile con officina e armeria addirittura. E vabbè dai ragazzi, datemi un attimo un minuto che mi procuro un centro operativo. E vediamo un po'. Quindi. Opzioni veicolo. Menu Custom. E partiamo subito dai cerchi ragazzi. Ok, cerchi. Vediamo un po' se cambia qualcosa. Quindi andiamo a cerchi sportivi. E vediamo un po'. Oddio ragazzi. Ah, vabbè, ma questi cerchi sono piccoli per questa macchina. Quindi, in questo caso, siamo costretti a mettere quelli lì normali, ok? Quelli lì originali. Perché come vedete ragazzi, poi, le ruote sono molto rialzate da terra. Quindi sì, dobbiamo mettere i cerchi stock. Questi qui normali, originali. Però, possiamo cambiare il colore. Quindi li facciamo di colore. Vediamo un po'. Vediamo un po' come possiamo farli. Oh, blu. Colore matto. Ah, vediamo anche se c'è cromato. Oh, oddio. Bella così. Bella, molto bella. Però, secondo me ragazzi, il colore verde lime per questa macchina non sta molto bene. E ho questa impressione che non sta molto bene. E infatti, vedete, diciamo, stona troppo, ecco. Stona troppo. Quindi vediamo un attimo di cambiare colore. La potremmo fare di colore black. Però il black è il colore normale. Quindi potremmo farla bianca. Dark blue. Midnight purple. Shafter purple. Red. Anche red. Stiamoci un attimo al sole. Gialla pure bella. Però poi... Il giallo è per i Lost Kaisers. I maledetti Lost Kaisers che... Sono scarsi, ragazzi. E non dite questo a Kais. Sono scarsi i Lost Kaisers. Ok? Sono più forti i families. Comunque. Vorremmo farla così, ragazzi. Vedete forest... No, forest green. Vedete questo colore verde militare. Quindi facciamo una cosa. Prendiamo subito i cerchi. Vediamo un attimo il colore secondario. Che cambia col colore secondario? Forse gli interni? Vediamo se cambiano. No, non cambia niente. Quindi facciamo una cosa, ragazzi. I cerchi li cambiamo perché questa volta non stanno più bene blu su verde militare. Quindi cerchi, colore e vediamo un po'. Vorremmo fare anche i cerchi di colore forest green. Vediamo se c'è. Dai, green. Forest green. Dark green. Ok, ok, ok. Non male, ragazzi. Non male, non male. Mi sta convincendo sempre di più. Però, diciamo, questo colore è un po' troppo, diciamo, acceso rispetto al colore della verniciatura. Quindi potremmo fare qualcosa. Ok. Ok. Così va bene. Dark brown, no? Ok, color terra, ok? Ok. Va bene, così dai. Perfetto, ragazzi. Abbiamo modificato tutto, mi sa. Door, window, ovviamente, finestrini. Limousine. Eccoli qui, molto oscurati. Emblema. Vabbè, cos'è? Questo è l'emblema di Deborah. Vabbè, gang de families. Extra. Non c'è niente. Turbo lo mettiamo. Luce lo che seno. I neon. Non credo che questa macchina li porta. Ah, no, invece sì, li porta, ragazzi. Vai, li porta. Li mettiamo dappertutto. E li facciamo di colore. Sempre color verde, ok? Ok. Eh sì. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Lime green, ok. Ok, vai. Basta. Basta così. Abbiamo messo tutto. Perfetto. E non ci resta che testare questa fantastica macchina. Uno. Due. Tre. E se vola. Vabbè, ora sono anche disposto a graffiarla, però voglio un attimo testarla. Voglio vedere un attimo se... Come dire, se colpisco i veicoli, se i veicoli poi volano, ok? Vediamo questa. Oh, sì. Perché queste prove mi serviranno in caso di guerriglia, ok? Vediamo. Oddio, ragazzi. Levatevi proprio tutti da qui. Sta passando la vigilante. Bam. Bam. Ok. Abbiamo già rotto qualcosa. Eh sì, un piccolo pezzo è andato via. Comunque interessante questa macchina. Vedete? Se voglio attaccare i ballas mentre loro, che ne so, stanno in giro, lo posso fare tipo così. Vedete? Tac. Oddio. Mamma mia. E noi ovviamente dentro non ci facciamo niente, ragazzi. Vedete? Questa macchina è molto robusta. Vai. Ora voglio un attimo farvi vedere una figata assurda. Vediamo un attimo se riesce. Mi metto avanti a questo. Vedete? Vedete? Oddio! Avete visto? Avete visto? Quindi quando attivo il turbo, se qualcuno sta dietro, è finita per lui. È finita. Vediamo. No? Questa volta... Ah beh, quello è un sub. Vediamo. Sì! Arrivederci. Arrivederci. Mamma mia. Oddio, ragazzi. Un'attacca di vita. Un'attacca di vita. Vi rendete conto? Un'attacca di vita. E sono morto. Recuperiamo un po' di vita. Ok. Wow. Mi sono salvato. Beh, questa macchina comunque ti salva parecchio. È un vecchio, eh? Questo camion. Vattene un poco. Arrivederci. Ok, eccoci qui. Quartiere dei Ballas. Vediamo un po', ragazzi. Vi faccio vedere la casa di CJ. Che dovrebbe stare qui, ovviamente come nella storia di GTA San Andreas. La casa di CJ è questa, ragazzi. Vedete? Eccola qui. Però prima di andare voglio ammazzare un po' di Ballas. Perché questi qua devono capire che quando voglio io vengo qui e non devono dirmi niente. Perché adesso questa casa me la prendo io. Quindi facciamo una cosa, ragazzi. Facciamo una bella cosa. Scendiamo a piedi. Scendiamo a piedi. E li ammazziamo tutti a questi. Fatevi vedere, Ballas. Avete capito chi sono, eh? Avete capito chi sono. Eccoli qui, eccoli qui. Eccoli qui, eccoli qui. Eh, che fai? Che fai? Sono diventato molto più forte di voi. Eh dai, macchina! Mamma mia. Ragazzi, queste macchine come cavolo rompono. Sono diventato molto più forte di voi. Lo volete capire? Che sono diventato molto più forte di voi. E dovete capire che da ora in poi mi vedrete qui molto più spesso. Perché mi riprenderò la casa di CJ. Ok, maledetti? Me la riprenderò di nuovo. Quindi fatevi vedere ora. Almeno la finiamo. Ah, cosa volete fare? Ci sono altri Ballas? Ci sono altri Ballas? Fatevi vedere, fatevi vedere, fatevi vedere. Vi aspetto. Vi aspetto, non ci sono ragazzi. Eccolo qui. Erano due Ballas quelli. Ok. Ma invece era una vecchia. Un'anziana. Vabbè dai ragazzi, dai. Riprendiamo la vigilante. Vedo che i Ballas si sono spaventati. Vedete, non c'è neanche un Ballas. Quindi vuol dire qualcosa questo, no? Vuol dire che stiamo diventando molto forti ultimamente. Perché a quest'ora ragazzi, sicuramente stavano tipo 50 Ballas. E infatti, invece adesso solo una decina, ecco. Comunque dai, vi faccio vedere la casa di CJ. Oh, piano. Casa di CJ. Levatevi tutti. What's up, man? Ok ragazzi, eccoci qui. Vediamo chi di voi si ricorda di questa casa. Perché se avete giocato a GTA San Andreas, conoscete bene questa casa ragazzi. La conoscete molto bene. Ok. Pronti? Qua prima stava la marra ragazzi, però è scappato perché comunque ha sentito gli spari. Comunque qua fuori stava la marra. Ok. Ragazzi, sempre BMX, come i vecchi tempi. Si entra. E si entra. Ed eccoci qui ragazzi. Ecco la vecchia casa di CJ. Ovviamente, ora in GTA V, guardandola ora, fa schifo ovviamente ragazzi. Perché le texture sono vecchie, del 2004-2005. Quindi sono molto vecchie. Però, ai tempi, la Rockstar comunque faceva le cose fatte bene. Quindi ragazzi, le cose andavano bene, funzionavano bene. Quindi la Rockstar è sempre grande. Perfetto. Qui c'è Lester, come vi avevo detto. Vabbè, qua è meglio non sparare, è meglio non fare i casini. Oh, Lester, che stai facendo qui? Stai sempre rubando le carte di credito, eccetera, mi raccomando. Poi dammi un po' di soldi. Comunque, veramente ragazzi, veramente. Non vi ricorda niente questo salone. Non vi ricorda niente GTA San Andreas. Vediamo un po' i quadri. Ok, quello lì è un bus. Diciamo, quello è un pullman penitenziario, va bene. Questo, oddio. Che ci fanno le foto qui del club dei Lost? Vabbè. E poi lì, ragazzi, c'è la stazione di polizia, il dipartimento. E qua Michael De Santa. Ok. Perfetto, andiamo avanti. Oh, levatevi. Ciao, mi raccomando, pulisci bene questa casa che poi ci verrò ad abitare qui. Vabbè, non ci verrò ad abitare. Però sarà comunque una casetta dove ci passerò un po' di tempo. Qui è stato il grande CG, ragazzi. Come posso non venire qui? Ok. Perfetto. Ciao, amico mio. Tu sei le Lost? No, mi sa di no. Ok. Tutto a posto. Vedete, ragazzi, come la vecchia casa di GTA San Andreas. È fantastico, ragazzi. Vediamo un attimo se la roba si rompe. Sì, ragazzi. No, 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 no. Non vi preoccupate, sono io, sono Franklin. No, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Lester, non ti preoccupare. Comunque, dai, ragazzi, andiamo sopra. E vediamo un po'. Sopra dove dovrebbe stare la stanza di CJ. Valkyrie, ok. Perfetto. Oh, guardate qui. Sì, che top, ragazzi. Ok, quadri, questo qui è il bagno, c'è solo il bagno, c'è solo il WC. Ok, e questa è la camera di CJ, ragazzi, la camera di CJ, di Carl Johnson, ovviamente i cicchi di sigarette. Questo cos'è? Ok, I like, sì, ok, I like. Che top, ragazzi, veramente, bei ricordi, bei ricordi. Diciamo che io in questa casa ho passato veramente tanti anni della mia adolescenza, veramente, ragazzi. Cioè, che ricordi, che ricordi. E prima ovviamente non c'era l'online come qui su GTA V, prima era tutto single player, storia. Poi dopo un po' sono uscite le mod, tipo come 5M, che si può giocare online e quindi anche su San Andreas. E il top, ragazzi, si faceva, la solita cosa che si faceva, no? Si usciva, tac, e subito la BMX. E si andava sentivamente a comandare, ragazzi, con la BMX. Si comandava tutto. E qua si respirava un'aria migliore rispetto a quella di oggi. Era tutto families qui, ragazzi, tutto families. Morite tutti, Ballas, morite. Oddio. Oddio. No, vabbè, devo ritornare, ma qual è il problema? Io ritorno, attivo, e mi prendo questa. Ora, fatevi vedere se ci siete. Avete capito che non potete fare niente, anche in bici, anche in bici, vi ammazzo, anche in bici. E dai, ragazzi, niente. E niente, quest'è. Quindi spero che la casa di CJ vi piace, perché ogni tanto qui verrò, ovviamente, ragazzi. È normale. Casa di CJ. La storia di GTA. Oh, cosa c'è scritto lì? Sense, ok? Vabbè, dai. Io adesso finisco il video, ragazzi, e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Granata tattica, arrivederci. Ciao.